Oh mon die che frison, sento già uno sconvolgimento ormonale e un vortice energetico che avviluppano la mia sensibilità creativa. Non appena arriva voglio creare un concetto di falli pantocratici mescolando ridondanze barocche e sospensioni metafisiche e magari rispongo anche al maxi. Aspettatemi meridiani, sto venendo. Aspettatemi meridiani, sto venendo.